E siamo allo sport, parliamo di calcio in Serie C, il Pescara dunque è tornato ad allenarsi in vista della sfida con la Juventus Next Generation in programma domenica prossima con fischio d'inizio alle ore 14 sul neutro di Alessandria, ma per tutti i dettagli particolari abbiamo in studio il nostro Massimo Profeta. Buongiorno Massimo, allora. Buongiorno a te e a tutti gli amici di Visione Ascolto, parliamo anche un po' di mercato, non ci sono grandi notizie, però insomma la priorità è quella, già ne avevamo parlato ieri con dovizie particolari, di ingaggiare un portiere che affiancherà Prizari, il titolarissimo fino al termine della stagione, non sarà, e questo lo possiamo dare per certo, non sarà Fiorillo, era una suggestione, c'era in realtà, insomma la notizia era assolutamente reale, verificata perché Fiorillo aveva parlato con l'ADS dell'Icarri, ricordiamo Fiorillo è stato capitano del Pescara, 224 presenze con la maglia Biancazzurra, da tre stagioni in Serie A, nella Sernitana, poco spazio, terzo portiere, insomma avrebbe voluto tornare a Pescara, anche un prestito semestrale si poteva fare, però ci sono problemi legati all'ingaggio, costi troppo alti per le possibilità del club Biancazzurro, avrebbe dovuto partecipare al pagamento dell'ingaggio anche la Sernitana, non se ne farà nulla, quindi sono due le opzioni, noi abbiamo cercato di sapere poi il nome, almeno uno dei due che stanno trattando i dirigenti Biancazzurri, si tratta di due portieri, un over del 1999 e un under del 2002, stanno giocando in questo momento, hanno totalizzato 10-14 presenze, 15 presenze entrambi in Serie C, presumiamo, però non siamo riusciti ad avere il nome, a sapere il nome, massimo riservo, entro domani sarà presa la decisione dai dirigenti del Pescara, dal DS dell'Icarri, questa diciamo che è la priorità in questo momento Fabio, perché alle spalle di Plizzari c'è solo un ragazzino del 2005 Barretta, anche perché, lo ricordiamo, Ciocci, il secondo portiere via Cagliari, è stato girato in prestito al Ponte d'Era. C'è una notizia che riguarda anche Luca Mora, che sicuramente lascerà Pescara, oltre alla Virtus Verona, a Luca Mora 35 anni, grande esperienza, un giocatore che non ha bisogno di essere presentato, perché ha fatto molto bene anche a Pescara, soprattutto lo scorso anno, sono interessate anche Fiorenzuola, due società di Serie C e Virtus Francavilla, staremo a vedere. Come dicevi tu, Pescara sta preparando questo primo impegno del nuovo anno, il 2024, domenica prossima sul neutro di Alessandria, contro la Juve Under 23, ebbene, saranno tutti disponibili, vedremo, perché, insomma, Franchini e Accornero sono sulla via del completo recupero, domani sapremo se saranno convocati, se saranno a disposizione di Zeeman, però, insomma, stanno ormai benino, possiamo dire così, senza tema di essere smentiti. L'unico indisponibile, certo, sarà naturalmente Pellacani, che si è da poco operato al menisco interno del ginocchio destro, e sarà a disposizione di Zeeman soltanto a fine gennaio. La Juve Under 23 è una squadra di ragazzini molto talentuosi, possiamo dire, anche questo senza tema di essere smentiti, perché, insomma, la Juve Under 23 è una squadra, sì, che naviga nei bassi fondi della classifica, non so se abbiamo anche la possibilità di vedere la classifica, la gradatoria giornata del campionato di Serie C, dopo 19 giornate, quart'ultima in classifica, la Juve Under 23, allenata da Massimo Brambilla, è la seconda squadra della Juventus, chiaramente è lo spirito, l'obiettivo della Juve, sono tutti giovanissimi, un esempio, tra l'altro, emulato dall'Atalanta, che ha una sua seconda squadra, l'Atalanta Under 23, che sta facendo bene nel giro A del campionato di Serie C, tutti i ragazzi giovani di prospettiva, alcuni di questi, insomma, Ildiz, che ha fatto diverse partite nella Juve Under 23, ha già segnato nella prima squadra, Fabio contro il Frosinone alla prima titolare, la prima squadra è stato lanciato da Allegri, come lo stesso Uisen, il difensore centrale, che continua a giocare nella Juve Under 23, ma ha esordito in Serie A contro il Milan nello scorso mese di ottobre, e c'è un altro ragazzo, Nonge, che aveva già giocato nella partita di andata contro il Pescara, nella parte finale, quindi, diciamo, stiamo parlando di diversi mesi fa, la prima giornata del campionato di Serie C, anche Nonge potrebbe esordire in Serie A, perché ne ha parlato molto bene Max Allegri, quindi questa è una squadra di ragazzi giovani, ma anche in esperti, è chiaro che il Pescara dovrà cominciare nel migliore dei modi questo campionato, in trasferta sta facendo molto bene il Pescara rispetto alle gare disputate davanti al pubblico amico, 32 punti, come vedete nella classifica, quarto posto, di cui 17 conquistati appunto lontano dal pubblico amico. Vedremo quello che succederà domenica alle 14. Salve a vedere, grazie!